L'attuale pressione mediatica sta veramente creando di grossi danni, soprattutto ai nostri bambini e ai nostri giovani, perché non hanno più la possibilità di filtrare quei messaggi che gli arrivano, in quanto gli stessi genitori sono vittime di questo marketing aggressivo, un marketing dove si impone l'acquisto di prodotti solo perché in quel modo si può rientrare nella fascia delle persone vincenti, delle persone che si possono presentare con le carte in regola in qualsiasi situazione che la vita di tutti i giorni richiede. È pericolosa questa tendenza ormai degli adulti a non contrastare più questi messaggi pubblicitari, e non fornire più delle chiavi di lettura ai nostri giovani. Ovviamente i ragazzini, i bambini sono molto più influenzabili per via dell'età e questo ovviamente gli strateghi del marketing lo sanno bene e lavorano molto bene su questi punti, però il problema, il noce della questione è proprio che l'adulto è un adulto un po' di missionario, è caduto anche lui nella trappola di questo consumismo che ci porta veramente a consumare non solo più gli oggetti, ma anche le relazioni fra persone.